Si è svolto a Siderno il convegno dal titolo I talenti delle donne. È stata la FIDAPA di Siderno, in collaborazione con quella di Locri e di Rocella Ionica, ad organizzare l'evento nel quale è stato dato risalto alle figure femminili calabresi. Le quattro sezioni FIDAPA di Siderno, Locri, Brancaleone e Rocella, hanno individuato delle donne che si sono distinte, delle donne della nostra terra, che si sono comunque distinte in ambito locale o in ambito nazionale per la loro professionalità e per la loro capacità di far valere le proprie inclinazioni, la propria personalità, dimostrando le proprie attitudini. La FIDAPA di Siderno ha scelto come talento, anno 2016, la dottoressa Giancarla Rondinelli, che è una giornalista parlamentare, giornalista nel noto programma Porta a Porta di Rai 1. Presente all'evento anche il dottor Zampogna, primario dell'ospedale di Locri. E qui con noi la giornalista, inviata politica, la dottoressa Giancarla Rondinelli. La mia presenza, la mia presentazione della giornalista è motivata dal fatto che si è interessata anche di tanti problemi sanitari, in maniera molto obiettiva e in maniera molto giusta, prendendo le difese spesso, perché in questo momento non abbiamo bisogno, della classe medica. Ma tra l'altro l'occasione in cui ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla è stato l'evento sul bergamotto, in cui lei ha saputo tirare fuori proprio il prodotto di questa terra e i benefici che ha il bergamotto sulla salute. Tra le altre cose, devo dire che la dottoressa Giancarla Rondinelli è la consorte figlia della Calabria e consorte di un altro giornalista politico di Regino, che opera ovviamente a Roma e che tutti noi vediamo quasi tutte le sere al Tg1, e che è il dottore Giuseppe Malara. L'intento è stato quello di premiare una donna calabrese che si è distinta per le sue abilità. Quest'anno il premio è andato a Giancarla Rondinelli, giornalista parlamentare, da sempre attiva nell'ambito della politica nazionale, nonché giornalista di Porta a Porta, programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. Io ringrazio intanto la FIDAPA, ringrazio in modo particolare la dottoressa Falvo e il dottor Zampogna. Sono molto contenta e molto emozionata per questo premio, un premio per il mio percorso, ma soprattutto un premio che ricorda le mie origini. Io mi occupo di politica nazionale, ma con la Calabria nel cuore, tutto quello che faccio lo faccio portando la mia terra nel cuore, la nostra ambizione, la nostra determinazione. Quindi sono molto contenta di essere qui, di poter ricevere questo premio, con l'augurio di poter vedere la Calabria sempre più in alto e di vedere la Calabria che funziona. Questo è l'augurio che faccio a me, ai miei figli, che faccio a tutti i calabresi e a tutti i cittadini italiani.